ciao e bentornati in un nuovo video si come avete detto la copertina oggi è il giorno del video antipatico quello dove insomma l'argomento un po' spicoloso ci provo come sempre quando c'è qualcosa che insomma non mi risulta troppo simpatica cerco di comunicarvela quantomeno provo a mandare il messaggio tutto dopo la sigla sicuramente non è facile impostare l'argomento in un modo che non venga compreso male però voglio provarci allora ho visto qualche video anzi diciamo parecchi video di utilizzatori tesla che di conseguenza poi si sono cimentati nell'esperienza con youtube e io tra l'altro appoggio pienamente non sono invidioso anzi più canali youtube parlano di tesla di auto elettriche di mobilità elettrica meglio è perché magari si riesce a fare quell'operazione così complicata in italia che è di far capire alle persone i vantaggi dell'auto elettrica e quant'altro quindi io sono sempre favorevole a tutto quello che è l'informazione sulle auto elettriche però ho visto vedo spesso dei contenuti che reputo alquanto discutibili oggi mi soffermo su un contenuto in particolare ma poi farò altri video su altre cose che secondo me sono ripeto discutibili semplicemente discutibili oggi parlo di tutti quelli che fanno vedere su youtube cosa si fa mentre l'auto ricarica e ce ne sono tantissimi non faccio nomi ma tanto se girate nei vari canali cannelletti appena nati o meno meno sono giovani insomma c'è trovate sempre il video del dell'utilizzatore tesla che sta fermo supercharger o una colonnina di altri gestori che gioca fa vedere il boombox e perde tempo e quindi lancia un tipo di messaggio ecco perché non lo condivido perché secondo me va specificato che quello non è l'unico modo di utilizzare un'auto elettrica vi faccio il mio esempio personale io non la uso in quel modo l'auto elettrica guardate questa immagine questa che vedete è l'immagine del mio utilizzo della tesla negli ultimi 30 31 giorni tutte ricariche blu sapete che significa che io questo mese non ho mai ricaricato alle colonnine mai ho ricaricato l'auto solo a casa fanno tutti così ovviamente no certo che no non è che io lancio il messaggio l'auto elettrica uguale la mattina ti svegli hai sempre 500 chilometri a disposizione c'è chi non potrà ricaricare a casa e ricaricare alle colonnine mi sta benissimo che apre il suo canale youtube e ci faccia il suo video però lo dovete specificare però lo dovete dire perché se di tutte le persone che aprono i canali fate vedere a parte fate tutti i stessi contenuti vabbè lasciamo perdere quello però voglio dire non è che la vostra abitudine rispecchia tutta la mobilità elettrica perché poi il messaggio che passa visto che viviamo in un paese di capre passatemi il termine tanto lo sapete a chi mi riferisco se voi pubblicate continuamente tutti insieme all'unisono quel tipo di video il messaggio che viene lanciato è che chi ha l'auto elettrica non ha un cazzo da fare nella vita perdonatemi ma è così sapete perché questo mese non ho ricaricato neanche una volta le colonnine perché non ho tempo io quando ho comprato l'auto elettrica l'ho fatto consapevolmente essendo consapevole che avrei ricaricato a casa se non potessi ricaricare a casa io oggi avrei ancora l'auto termica e questo purtroppo è una verità e basta con sta storia che l'auto elettrica è per tutti non è vero io se non potessi ricaricare a casa molto probabilmente non avrei l'auto elettrica perché non ho quei 20 minuti mezz'ora un'ora durante il giorno quantomeno per stare alla colonnina giocare al giochino io c'ho da fare come c'hanno da fare penso e spero tantissime persone per lo meno quelle produttive quelle che producono quelle che hanno un obiettivo e di conseguenza l'arco della mia giornata non può essere fatto per quel tipo di mobilità dove mi fermo e sto un'ora un'ora e mezza alle colonnine tanto c'ho il giochino tanto c'ho il boombox tanto mando la mail per me non funziona così è una mia abitudine io lo dico sempre non è che ripeto non è che il mio messaggio è giusto e quelli che fanno quel tipo di video il messaggio è sbagliato però dovete specificarlo perché tutti insieme mandate un messaggio e dall'altra parte le capre recepiscono che cosa auto elettrica uguale nulla facente perché hanno il tempo a testare le colonnine non è vero io non ce sto mai a me pesa pure durante il viaggio fermarmi tant'è che quando faccio i viaggi con la tesla con la moglie senza moglie bambine senza bambine comunque ottimizzo le fermate per mangiare andare in bagno perché mi rompo le scatole ad aspettare che l'auto si ricarichi è inutile girarci intorno è inutile far sembrare sempre che è tutto bellissimo con l'auto elettrica non è vero aspettare che l'auto si ricarica è una grande rottura di palle anche se avete il giochino mongoloide da giocare dentro l'auto quindi avete il canale fate anche dei contenuti intelligenti dove oggi sto fermo alla colonnina perché ho questa esigenza ma magari la mia normalità perché poi tra l'altro quelli che fanno molti di questi contenuti in realtà ricaricano a casa tutte le notti quindi tra l'altro sono anche poco veritieri non rispecchiano le loro abitudini quindi dico la vostra abitudine è ricaricare a casa sottolineatelo sempre perché il messaggio che deve passare deve essere vero non deve essere faccio il contenuto figo perché faccio vedere che gioco mentre ricarico perché sono il più bello e il più figo non è così caricare perdere tempo alle colonnine è una rottura di scatole questa è la verità quindi se lo fate per abitudine ben venga giustissimo ma se la notte caricate a casa e poi su youtube vi divertite a fare contenuti dove state fermi a perdere tempo è la cosa un po cozza e non è neanche vera che poi tra l'altro se andate a leggere i commenti di questi video li devastano cioè sti poveri youtuber che fanno questo tipo di contenuti nei commenti vengono uccisi da tutti i detrattori da tutti i novat da tutti quelli che sono contro l'auto elettrica ma se voi la servite su un piatto d'argento tra l'altro dicendo il falso perché ricaricate tutte le notti a casa e vi sta bene e che vi devo dire vi sta bene però state mandando un messaggio uno che non rispecchia la realtà e due che non rispecchia tutta la mobilità elettrica lo comprendete perché a me piacerebbe che ci fossero più persone oneste che dicano la verità cioè io ho comprato l'auto elettrica perché ho la possibilità di caricarla a casa e credetemi senza andare a vedere le statistiche che poi non sono mai troppo attendibili ma tantissime persone la metà o più della metà più del 50 per cento di quelli che hanno l'auto elettrica ricaricano a casa ancora oggi sono una minoranza quelli che hanno l'auto elettrica ma ricaricano solo ed esclusivamente alla colonnina quindi il messaggio deve essere veritiero io ho l'auto elettrica ricarico a casa e non ricarico mai alle colonnine mai non ho tempo da perdere per andare in colonnina avete visto io questo mese ho ricaricato sempre a casa gli altri mesi quando è capitato o c'era un viaggio di mezzo o era un'esigenza particolare ma se no io con i miei 4 io ricarico all'80 per cento con i miei 400 e più chilometri tutte le mattine a disposizione io la mia giornata lavorativa ce la faccio la sera torno e la rimetto in carica che ci vuole niente sarebbe bello passare anche questo messaggio no piuttosto che c'è l'auto elettrica e quindi hai tempo da perdere le ricariche chiusa questa parentesi se non stavamo in italia questo video non ci sarebbe mai stato perché perché il problema fondamentale non è chi fa il video che sta alle colonnine di caricare perché io mi rendo conto che ognuno sul canale fa quello che vuole ed è giustissimo che sia così però cercate di comprendere da dove parte il mio video il mio video il mio video purtroppo parte dalla diciamo mentalità che hanno gli italiani ancora oggi nonostante mezzo mondo sia spostato verso le auto elettriche nonostante tutte le aziende automobilistiche si stanno spostando verso l'auto elettrica stanno investendo miliardi di dollari in italia se parli di auto elettrica prende fuoco e quando dovrai cambiare le batterie e hai tempo da perdere alle colonnine il problema non è chi fa il contenuto il problema è che siamo in un paese di capre che ancora non hanno capito qual è la direzione che si è preso già ormai da tantissimo tempo eppure in italia ancora c'è questo populismo che l'elettrico è una bufala che le auto prendono fuoco e che si perde tempo appunto alle colonnine io non posso farmi l'auto elettrica io mica ho tempo da perdere le colonnine e te credo poi vai su youtube scorri e i video su tutti quelli ah gioco al giochino cercate di comprendere il problema non siete voi ripeto ma è a chi ha indirizzato questo contenuto se stavamo in un altro paese probabilmente lo stesso contenuto veniva interpretato nel modo giusto e cioè sì se capita che sto fermo in ricarica perché sto facendo un viaggio perché è stata una giornata dove ho fatto più di 300 400 chilometri e anche io mi concedo la partitina al giochino ma credetemi non è la mia normalità e cerco di evitarlo il più possibile spero di essere stato chiaro io spero che voi abbiate capito veramente questo mio piccolo sfogo comunque questo mio messaggio e prima di salutarvi volevo ringraziare due persone tutte e due con la stessa auto il primo è luca che mi manda la foto di questa bellissima model 3 island blu che è un colore molto particolare tra l'altro luca ha assicurato la sua macchina con il mio assicuratore ve la butto lì perché a febbraio farò un video dedicato alle assicurazioni perché febbraio è perché poi vi spiegherò il motivo intanto grazie luca complimenti per l'auto veramente bella goditela poi secondo ringraziamento e saluto andrea eccola qui la sua model 3 sempre island e devo dire che il nero su quest'auto secondo me è il colore più bello in assoluto mentre per la model y mi piace tantissimo il cherry red sulla nuova model 3 questa qui con questo gruppo ottico anteriore stupendo secondo me il nero è il colore più bello piccolo messaggio per tutti quanti quelli che sono in procinto di acquistare una model 3 o che già l'hanno comprata vedrete andrea e vedrete la sua macchina sul mio canale molto spesso perché con lui ho stretto un rapporto una sorta di collaborazione per tutti gli accessori della model 3 questo perché ho la possibilità tramite le aziende con cui collaboro di avere accessori e siccome per quest'auto ancora non c'è quasi nulla c'è pochissima roba tutto quello che c'è cercherò di portarlo sul canale di farlo conoscere così che possiate insomma farvi un'idea sugli accessori di questo nuovo modello vi ho detto tutto spero che il contenuto antipatico spinoso che sia vi sia piaciuto se è così lasciate un like se non vi siete ancora iscritti questo è il pulsante iscrivetevi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao